Bomba su Maria De Filippi. Offerta shock per cambiare destinazione tv. Nel mondo della televisione italiana, un'autentica bomba ha scosso il panorama mediatico. Maria De Filippi potrebbe seriamente considerare di abbandonare Mediaset. A rendere questa notizia ancora più sorprendente è l'offerta straordinaria che le è stata ufficialmente presentata e che potrebbe cambiarle la prospettiva, nonostante sia una figura chiave dell'emittente di Pier Silvio Berlusconi. Inoltre, la piattaforma interessata a convincere la Queen Mary a intraprendere un nuovo percorso ha citato altre celebri presentatrici, tra cui Antonella Clerici, elogiata per la sua autenticità e vitalità. La responsabile Italia e Iberia dei contenuti e delle produzioni, Laura Carafoli, ha espresso la sua ammirazione per la Clerici e ha svelato dettagli sulle offerte fatte sei anni fa a Maria De Filippi da parte di Discovery, dove lavora anche Fabio Fazio. Carafoli ha dichiarato di essere innamorata di Maria De Filippi e ha rivelato l'offerta di un canale tutto suo, seguendo l'esempio della famosa opera Winfrey in America. Nonostante il rifiuto di Maria sei anni fa, l'offerta rimane valida, con Discovery aperta a coglierla in qualsiasi momento. La situazione ha suscitato curiosità e speculazioni, con il ricordo delle parole di Fedele Confalonieri, che ha sottolineato come Mediaset abbia dovuto impegnarsi finanziariamente per trattenere De Filippi. Discovery sembra interessata non solo a Maria ma anche ad altre figure di spicco come Federica Sciarelli e Barbara D'Urso. Il futuro della regina della tv italiana è ora volto da incertezza e il pubblico rimane in attesa di sviluppi.